Buongiorno a tutti, sono Bertolini Riccardo e dopo un po' di tempo ritorno con un altro capolavoro che a me piace moltissimo. Sto parlando della Locandiera, è una commedia in tre atti scritta da Carlo Goldoni nel 1753. Credo che... Sì, 1753 è andata in scena la prima volta. Allora si chiama la Locandiera perché ha come protagonista Mirandolina, che è la proprietaria di una locanda a Firenze, che ha come principale servitore Fabrizio, che Fabrizio è un cameriere, insomma l'aiuta un po' nelle faccende legate alla locanda e ha numerosi ospiti nella sua locanda, clienti ovviamente. Il primo tra tutti è il Cavaliere di Ripafratta, dico primo fra tutti perché è il personaggio che assicura lo svolgimento alla storia, nel senso che è lui il principale ospite di Mirandolina, a cui Mirandolina si occupa. Poi c'è il Marchese di Forlimpopoli e il Conte d'Alba Fioreta. Allora, attenzione, perché quando si dice che Goldoni ha riformato il teatro, si dice sì che invece di scrivere un canovaccio, ovvero invece di scrivere racconti in generale senza scrivere le battute, per esempio, lui ha riformato il teatro facendo sì che, raccontando le vicende delle persone normali, o meglio, dalle persone nobili alle persone più umili, diciamo. E questa è la sua riforma di teatro. E anche, ovviamente, ha scritto tutte le battute dei protagonisti, ha scritto la sceneggiatura, insomma, ha dato una realizzazione più completa, diciamo, dei canovacci, che appunto erano una generale interpretazione dell'opera che poi andava modificata a seconda di chi erano i protagonisti, cioè erano proprio gli attori che dovevano interpretare quello che c'era scritto nel canovaccio. Comunque, quest'opera è la principale opera di Goldoni perché vediamo scontrarsi la borghesia con la nobiltà decaduta. La nobiltà decaduta è rappresentata dal marchese di Forlimpopoli, che non ha più molto denaro, però è attaccato al suo titolo, quindi usa il titolo per far sì che Mirandolina si innamori di lui. Il conte d'Alba Fiorita, invece, usa i suoi soldi per comprare le attenzioni di Mirandolina e per magari un giorno sposarla. Sì che c'è un terzo personaggio, che è proprio il cavaliere di Ripafratta, che invece è misogeno, ovvero odia le donne. Odia in una maniera morbosa le donne. All'inizio, infatti, deride gli scopi del marchese di Forlimpopoli e del conte d'Alba Fiorita, gli ride dietro perché dice guarda questi perdono tempo per conquistare una donna. Però poi, Mirandolina, con il suo fascino, con le sue attenzioni e con i suoi servizi, nel senso che magari gli sistema meglio la camera a lui che agli altri, magari con dei dialoghi, dice capisco le intenzioni di quei due che si vogliono approfittare di me, ma io sono gentile con tutti perché è il mio lavoro, perché sono proprietario della locanda. Insomma, attraverso attenzioni che la stessa Mirandolina rivolge al cavaliere lo fa praticamente innamorare, follemente. Attenzioni che sono dovute proprio ad un momento in cui Mirandolina sente che il cavaliere di Ripafratta critica aspramente le donne, cioè proprio contro le donne. e lei vuole vendicare genere femminile, vuole far sì che le donne costituiscono un punto di attrazione per la visione che ha il conte. Mi spiego meglio. Vediamo qui uno scontro tra, non solo tra borghesia e nobiltà, vediamo uno scontro tra due mentalità, anzi tra due sessi, cioè la donna e l'uomo. La donna la vediamo in una rappresentazione sì più debole diciamo, perché è un po' più debole, perché magari, non so, il borghese oppure il cavaliere avevano soldi e avevano più potenza economica, però la vediamo in una situazione in cui lei può mettere seriamente a difficoltà l'uomo, perché ovviamente la donna è un po' più astuta, è un po' più tranquilla, meno... si tiene di più le passioni, si tiene di più... è una persona molto più... più decisa a mantenere segrete le sue... le sue miri, i suoi obiettivi. Infatti Mirandolina alla fine, alla fine della storia, della commedia, sposa Fabrizio, cioè il suo primo servitore, come le aveva detto di fare il padre. Lo sposa perché dopo aver praticamente distrutto il cavaliere di Ripafratta, perché lui ad un certo punto della storia non sa più trattenersi e gli dice farò tutto quello che vuoi, basta che tu ti fidanzi con me. Passa da una condazione contrastante, che dice che le donne non servono a niente, che le donne sono solo fonte di distrazione, di causa di distruzione, passa da questo momento all'altro. Praticamente dice farò di tutto perché tu venga con me. Cioè una donna che prima era considerata il più basso essere vivente della terra adesso è inalzata. Quindi abbiamo una situazione che parte da un estremo e va all'altro, ma del resto sono le commedie di Goldoni che sorprendono, che fanno sì che una situazione che coinvolge tutti, è una situazione che coinvolge i più poveri, i più ricchi, la borghesia, il ruolo che ha la borghesia, ma anche il contadino. Insomma Goldoni con questa commedia ci insegna che per lui è più importante rappresentare i sentimenti di tutti i ceti che magari rappresentarne uno solo nascondendo gli altri. Grazie a tutti.